un look così lo puoi fare solo con lei ciao a tutti e bentrovati sul canale non è vero che un look così lo potete fare solo con lei ma siccome io ho comprato lei non vedevo l'ora di farvela vedere all'opera di cosa sto parlando? chi è lei? l'urban decay born to run che tradotto nella mia lingua che è il siciliano sarebbe l'urban decay per il lomo ci pensavo prima perché chi è sempre in giro qui in Sicilia viene detto per il lomo e lei potrebbe essere è una bellissima palette che vi ho recensito in questo video qua con una gamma colori infinita e una possibilità infinita di make up a me oggi è uscito questo qui ragazzi però voi a fine video vi chiedo di suggerirmi quale altro tipo di gamma colori vorreste che usassi in un prossimo get ready with me fatto sempre con questa palette oggi useremo una serie non infinita una serie finita selezionata di trucchini nuovi un rossetto di Too Faced cosa c'è di nuovo? cosa c'è di nuovo? ah questo qui il bourgeois healthy mix serum che ce l'ho da una vita e non ho mai usato se volete poi interessa la recensione di questo siero questo fondotinta siero ve la farò perché ho da dirvi tante cose su questo poi cosa ho usato? ho usato questo bellissimissimo quartetto di correttori della Benecos insomma vedrete tante cose inusuali per il mio canale perché mi sono detta di dare una svecchiata cioè prendere tutto quello che ho nel cassetto e utilizzarlo e quindi lo provo insieme a voi siete pronti per il trauma da viso senza make up? tenetevi forte allacciate le cinture 3, 2, 1, via! et voilà! e trovarsi dopo il conto alla rovescia è sempre un po' traumatico non pensate e vabbè ragazzi vabbè non ci lamentiamo questo è quello che passa alla casa e dobbiamo fare in modo che risplenda quel po' che c'è bisogna farlo risplendere e accontentarsi nel mio caso dico quel po' che c'è allora qui il mio specchio magico per chi fosse nuovo questo è lo specchio che ha destato un sacco di interesse sul mio canale è uno specchio toletta led con ingrandimento super bellissimo e vi linko il link qua sotto è un link affilato a Amazon perché appunto l'ho ritirato da Amazon e adesso oggi facciamo un trucco con lei born to run molto bella molto bella ve l'ho recensita in questo video vi ho detto le mie impressioni adesso testiamola testiamola però prima bisogna fare tutto il resto e allora ho già messo il siero ho dato il tempo di asciugarlo un attimo avrei dovuto fare una mascherina ma non ho avuto il tempo in questo periodo le mie preferite sono queste della Neutrogena sono fantastiche però come vedete le mie sono straniere tedesche perché io le ritiro su internet perché in Italia una costa 5 euro e qualcosa io ho ritirato un set da 6 a 17 euro quindi se maschere 17 euro convengono ne ho 3 gratis si può dire e quindi le ho prese online adesso vi lascio il link qua sotto tutto qua sotto tutto quello di cui parlo ve lo lascio qua sotto se lo trovo se no no vi posso dare delle indicazioni sporadiche allora oggi vorrei fare un trucco un po' più rifinito in onore della nuova palette quindi darò un fondo un pochettino più compatto e allora faccio una bella mixata tra l'altimix serum di bourgeois che ho comprato mi è stato inviato ho comprato mi è stato inviato un milione di anni fa da un sito da un sito di profumeria tipo era un sito multimarche comunque lo trovate lo trovate un po' dappertutto su internet quindi faccio una pusciata di questo che è chiarissimo ed è anche non coprente però ha un suo perché diciamo così è una pusciata di questo che vi ricordo essere questo siero di natura verde mixato con il concealer numero 4 di puro bio e con la BB cream numero 4 di puro bio quindi molto molto scurito per questa stagione così ho potuto utilizzare sia vedete quanto è chiaro il serum quello là di l'eltimix serum però a me serve un'uniformata specialmente qui dove sono piena di ventigini e macchie ventigini e macchie io metto un fondino di quello poco poco di quello più chiaro e molto di quello scuro copre pochissimo sia l'uno che l'altro però uniforma ed è quello che noi cerchiamo ovviamente spugnetta umida e si va e allora in questo periodo di relax ho preso un po' una pausa dal lavoro perché il mio fisico mi chiede di fermarmi e io ascolto molto quello che dice il mio corpo mi sono data allo shopping poca roba però bella tra queste cose ho preso questa palettanza dell'Udi Urban Decay che è bellissima secondo me è una delle palettes più complete che esistano in commercio effettivamente è una di quelle palette che quando parti puoi portare via con te vedete io qui l'eltimix serum di Bourjois lo uso a modi illuminante è una di quelle palette che puoi portarti in viaggio non ti serve altro puoi fare 250 milioni di look anche se io poi faccio sempre gli stessi vabbè ma il sapere che è in potenza potrei mi fa partire tranquilla allora adesso prendo il quad di Benecos questo qui bellissimo usato troppo poco per quanto è bello prendo il rosa e lo meccio con questo tono un po' più aranciato e lo passo qui sulle macchiette ok passato il fondotinta prendo il mio prendo della Benecos il quad questo qua di correttori prendo leggermente il lillino questo qui e lo uso qui prima un po' sulle macchiette qui a modi illuminante e anche nascondimacchie lo poggio con il dito perché così le cere si sciolgono ed è più facile da lavorare tra l'altro tiene bene ci sono 40 gradi e lui non si scioglie e poi picchietto se ho bisogno di inumidire la spugnetta prendo dell'idrolato di fiori d'arancio e lo spruzzo voilà scusate i rumori di sottofondo ma ho la finestra rigorosamente aperta perché io non uso il climatizzatore ma ragazzi un minimo d'aria ma lo dovete dare se non muoro muoio ok quindi tamponiamo non se ne andranno totalmente ma non importa noi vogliamo giusto uniformare non camuffare anzi con le dita poi stendo tutto meglio perfetto come cipria oggi ho preso tutto di bene costi da tanto che non lo usavo uso la cipria di bene ne costo che è una buona cipria senza grandi pretese costa pochissimo 4 euro ma è buona fa il suo lavoro la prelevo con il pennellone quando ne voglio poca e la passo ho dimenticato di mettere il correttore ragazzi me ne sono accorta dopo aver messo la cipria beh oramai continuo uguale ma mi fermo a metà viso metto il correttore e continuo a mettere la cipria che è meglio allora come correttore uso questo di Wicon in edizione limitata l'Andrea Primer che è fantastico un giallo banana fenomenale super liquido non fa assolutamente spessore ma illumina illumina estremamente ora vi faccio vedere l'occhio con e l'occhio senza si vede la differenza direi proprio di sì continuiamo illuminata do una passata di spugnetta per settare un po' il tutto mi dicevo la faccia tutta pestata perché vengo dal mare stamattina giornata di mare cipria giornata di mare qui in Sicilia sta facendo un tempo strano non c'è un'estate piena ci sono giorni di pioggia e giorni di nuvoloso e poi giorni di nuovo bel tempo e voi direte eh vabbè il mondo va così sì il mondo sì ma la Sicilia non è mai andata così la Sicilia in estate c'è il caldo punto non esistono altre possibilità in estate c'è il sole punto non esistono varianti e variabili neanche per il tempo e invece da qualche scusate il gioco di parole da qualche tempo a questa parte ci stiamo nordizzando ci stiamo stanno venendo i nuvoloni ad agosto ragazzi che non si possono vedere ogni volta che si affacciano all'orizzonte io rimango così no di nuovo uso come terra il bronzer di puro bio che si è un pochino sfrantumello vedete la cialda ecco ma penso sia stata colpa mia perché ho esercitato delle leggere pressioni per prelevare un po' di di polvere quindi prima che vada distrutto lo uso un po' per il contouring ma comunque è stata molto friabile sempre questa cialda è la cialda numero 3 e tra tutte è stata sempre quella più problematica le altre sono abbastanza stabili mentre lei era debolina e poi per intensificare il contouring uso questo della labo che sinceramente mi sta piacendo di più delle terre di puro bio vedete è subito più definito ha un colore più biscottato è meno grigio e mi piace mi piace molto con un duo fibra adesso sfumo perfettamente anche adesso si stanno affacciando delle nuvole però in sicilia le nuvole non significano fresco stare meglio ristoro significa agglomerato di umido bestiale per riscaldare l'incarnato uso questa parte questa parte qui e uso sempre il duo fibra e quindi insomma un'estate un po' ballerina siamo andati via prima dal mare proprio per questo motivo però siccome stasera ho una cena importante di lavoro incrasciate le dita per me e allora amen è andata così metto anche il blush e uso lui della defa cosmetics joy rose 005 questa cosa pazzesca molto luminoso uso questo pennello per metterlo polverosissimo ma bellissimo estivo proprio è anche illuminantissimo effetti lampadina on prendiamo la protagonista del trucco io vi ricordo se non avete già visto la recensione che costa 51 euro da sephora io l'ho pagata 40 perché ho beccato una promozione sull'app di sephora e quindi ho pagato col 20% in meno digitando un codice sconto e non sono non me la sono fatta spedire perché avevo paura si rompesse nel nel trasporto bensì sono andata io a ritirarla nel punto vendita sephora di catania allora come sempre ragazzi come sempre io comincerei con un tono uno di questi chiari e io inizio proprio con weekender questo qui questo nude qui per omogeneizzare la palpebra quando l'ho vista mi sono subito innamorata avevo detto che la volevo prendere molto onestamente non è che ne avessi bisogno però ho detto ho delle palette molto vecchie e non di grandi brand caso mai faccio un bel decluttering di quelle e già che le ho anche da parecchi anni e rimane nel cassetto solamente l'utile indispensabile è bello e quindi ho detto vabbè la prendo la prendo ok dopo aver dato una bella omogeneizzata alle palpebre polverosa prendo un po' di questo il breakway questo è un pennellino così da sfumatù no per palpebra intera di Avon se lo trovate prendetelo perché questi pennellini io li ho da almeno sei anni e sono spettacolari non vi tradiscono metto un pochettino sotto l'arco sull'arco sopracciliare e qui all'interno dell'occhio quindi come vedete è una palette che è molto 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 interessante perché ha un'infinita combinazione di colori io stasera tra l'altro non so ancora come vi resto quindi devo fare un qualcosa di estivo bello e nel stesso tempo neutro quindi vedremo un po' cosa combino bene cominciamo cominciamo coi colori io vi sento usa questo prova quello usa quello ombretta fammi vedere come funziona quell'altro ombretta vediamo vediamo prendo un pennellino a penna così di essence e prendo mi chiama ragazzi mi chiama sapete chi Bahia questo qua Bahia è questo ed è questo terra di siena questo qui che voi vedete molto più acceso di come realmente sia è più un cotto il colore del mattone ecco e con Bahia vado di angolo interno e di crisi leggermente di piega dell'occhio fino al centro un poco più avanti del centro dell'occhio che bello un colore bello pieno intenso wow una botta di vita ok adesso prendo un pennellino per sfumatura e sfumo qui dove si incontra il chiaro e Bahia un po' e un po' il resto per adesso lascio come è ok ora sfumo un po' sulla piega me lo porto un po' in giro perfetto voilà bellissimo adesso prendo questo qui sì che si chiama Steel Shot questo qua questo color pesca e ravvivo un po' Bahia qua al centro vado un po' più avanti di dove ero stata con Bahia e tiro via ok prendo questo qua accelerate o accelerate non so questo qui che è un bellissimo bronzo e lo piazzo qui sull'angolo esterno ma non esternissimo qui così bell e poi prendo punk questo qua che è un matt ed è un marrone con base rossiccia e faccio la C finale la codina ed è tanto che non facevo un trucco con le virgolette finali con le codine scure e mi insinuo anche qui sulla piega dell'occhio prendo il pennello da sfumatura prendo il dito e lo poggio dove non voglio che sbordi il colore e comincio a sfumare ben bene la piega dell'occhio e la C che ho fatto cercando di settare tutti i colori insieme ma facendo in modo che rimangano anche un po distinguibili cioè non fare un unico bastone di un unico colore ok ora con un pennellino piatto questo che bagno con un po di idrolato se lo trovo ok prendo un colore bellissimo che è double life questo qui lo prendo un pochino poi riprendo accelerate questo qui intensifico un po' il tutto usandoli anche da bagnati questo qui e poi come ultimo prendo in it questo qua come punto luce proprio qui vicino la palpebra sempre con lo stesso pennello uso stranded strained 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 ok e lo tiro su di qua e di qua perfetto adesso sfumo un po' con la spugnetta umida è l'idrolato pulisco lì dove ho sporcato tipo qui un po' di fallout qui vi ricordo che io non sono una professionista quindi queste cose le posso fare ma comunque credo che le facciano anche i professionisti ok prendo un altro pochino di correttore lo metto qui sulla puntina della spugnetta e vado ad illuminare lì dove finisce il trucco dire che mi sto divertendo un zacco e usare un eufemismo è come quando provo i colori per arte per te ora con un pennellino piatto così nel frattempo qui passa di tutto motorini bagnato prendo double life che è un colore stupendo questo bronzo è una pucciatina anche di punk e tiro v qui nella rima inferiore dell'occhio voilà uno poi siccome non mi basta prendo 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 long lasting di kiko long lasting stick nella colorazione 04 che è un colore molto simile un marrone pieno di rilescenze lo ridò sopra ed ha ancora fresco il tutto lo allargo e tiro via l'eccesso addolcisco leggermente questo perché non mi piace così dritto con un pennellino questo è di puro bio un altro po' del colore chiaro e lo rimetto sotto la rima sotto le ciglia uno e ne metto anche un po' sul dorato per ingentivirlo un po' questo che sto mettendo si chiama break away ed è leggermente iridescente wow un trucco molto più carico di quello che uso di solito è molto diverso ma anche molto bello prendo un attimino di still shot e lo metto ancora perfetto bello mi piace mi piace un trucco un trucco un barbatrucco è il momento dell'eyeliner per adesso con l'ombretto mi fermerei qui anche se io continuerei però fermati ombretta fermati sto mettendo un po' di knit qui per illuminare perché knit è un bronzo molto luminoso eyeliner uso il quick liner di wicon nella colorazione toffee che è l'unica colorazione di questo eyeliner che mi piace però è il mio eyeliner preferito come marrone ma per esempio il nero no 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 faccio una bella riga di eyeliner una e una di là ok eyeliner messo matita sopracciglia la lotti di London nella colorazione medium prima pettino con lo scovolino e poi con la micropunta proprio microtraccio le mie sopracciglia sto vedendo sul web che ci sono tantissime ragazze che hanno proprio la vergogna di farsi vedere senza le sopracciglia rifatte ma la cosa che mi mi fa sorridere è che hanno questa remora con altre donne che hanno il loro stesso identico problema se problema si può chiamare insomma avere un sopracciglio non definito non è un un sintomo di bellezza o bruttezza è un sintomo di essere più o meno pelosi di solito più peloso sei più è le sopracciglia sviluppate ben messe meno peloso sei quindi se da una parte è un vanto avere delle belle sopracciglia dall'altro da qualche altra parte soffri perché ti devi depidare come una pazza però non capisco non c'è per niente una sorta di cameratismo solidarietà tra di noi che dobbiamo sopperire a tutte queste rotture ma chi se ne frega cioè tra di noi possiamo vedere posso capire che non lo vuoi fare vedere quando esci col tuo ragazzo magari ti imbarazza ma non capisco neanche l'imbarazzo perché voglio dire o te le tatui o prima o poi le vedrà come le ha le sopracciglia quindi tanto vale che ti fai conoscere per quello che sei da subito piuttosto che smontarti in corso d'opera ma non è un difetto cioè questo voglio dire avere il sopracciglio più o meno definito non è un difetto non ci inventiamo nuovi difetti eh ragazzi e non facciamole veicolare proprio dal tubo vedo ormai stuoli dei ragazzi con le sopracciglia tatuate le station alle ciglia calmi già le ciglia finte per me sono un'esagerazione se fai un make up vabbè per andare a una cerimonia ma per uscire alla sera con gli amici le ciglia finte sinceramente le trovo un plus veramente un troppo però un plus nel senso di troppo ma che il sopracciglio non definito cotton fioc è assottiglio le codine ma che il sopracciglio non definito diventi un canone di bellezza non ci sto sulla peluria non ci sto non ci sto già i canoni a me stanno stretti però poi sulle sopracciglia proprio no ragazzi se mi dite è una moda ok è una moda però non vi fate venire il cruccio cioè da una moda non si può far uscire un difetto è solo una moda prima quando ero ragazzina io figuratevi che vi faccio ridere le sopracciglia si portavano naturali non riprese si portavano riprese negli anni 70 e 60 con la matita negli anni 80 e 90 si portavano naturali abbastanza folte alcune tipologie di ragazzi abbastanza sottili altre tipologie di ragazzi proprio ero uno stile differente ma c'erano entrambi gli stili e la cosa pazzesca è che chi le aveva folte io le avevo abbastanza folte ero ragazzina le pettinava e per farle stare ferme intanto si pettinavano tutti all'insù e per farle stare ferme si passava il pettinino sulla saponetta e poi si bagnava si passava sulla saponetta e poi si passava il sapone poi solidificava tra le sopracciglia e le sopracciglia ti rimanevano pazzesche e ferme quindi se volete fare se volete far star ferme le sopracciglia usate il sapone ora vendono qualunque cosa per far star ferme le sopracciglia quando una saponetta semplicissima un sapone di marsiglia per intenderci le fissa per anni no per ore per anni e io avevo questa carta d'identità se trovo la foto dovrei averla perché era la carta d'identità militare l'ultima mi sembra mi rimase quando scadde non la rinnovai mi rimase e c'avevo queste sopracciglia fantasmagoriche se la trovo o se trovo una foto con le sopracciglia così da fumetto da fumetto ma da da fumetto ilare voglio dire ma nessuno mi diceva ma che sopracciglia hai oppure cioè era una cosa sono sopracciglia è come se uno si cruciasse che con la riga di lato non sta bene voglio dire amen me la farò centrale me le trucco dopo qual è il problema proviamo insieme non ve l'ho mai fatta vedere la resa il sephora ultra juice ultra juice extension ho comprato questa mini size da sephora per provarlo perché ha lo scovolino così cicciotto come quel mascara di wicom che tanto mi piaceva vi annuncio che però non è bellissimo però ve lo voglio fare vedere l'oltre juice normale il curl mi piace di più e voilà messo solo nella parte superiore a sua discolpa c'è da dire che ancora è nuovo quindi è possibile che il ragazzo si farà però al momento non è uno di quei mascara che mi fa proprio impazzire l'oltre juice curl o il dior show mi piacciono molto di più lui arriva terzo quarto dopo hello extreme di essence però stiamo a vedere che sviluppo prende la situazione al momento non mi fa impazzire non non spenderei 18 euro per lui la full size assolutamente no sulle mie ciglia no poi sulle vostre provate e mi direte quando di un prodotto ben riuscito devono fare tutta la serie che non è all'altezza è meglio secondo me non farla chiamalo in un'altra maniera perché questo con l'oltre juice curl non ha niente 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 a che vedere e chi prova questo per la prima volta e magari non trova quel beneficio tanto sperato poi l'oltre juice curl non lo prova e invece ci perdono perché quello invece è bellissimo ma chiamandolo con lo stesso nome si pensa che siano tutti molto simili invece no assolutamente questo comunque extension allunga di allungare le allunga non posso dire di no ma anche l'altro le allunga oltre che piegarle e volumizzarle passiamo adesso alle labbra che voglio mantenere non scurissime quindi abbastanza chiare userò la precision lip pencil 311 di Kiko questa qui passo su tutta la matita e siccome stasera voglio stare comoda voglio parlare chiacchierare tranquillamente non voglio sentirmi le labbra tirare di Too Faced uso marshmallow questo rossettino chiaro chiaro che entrerà in contrasto con questa matita un po' più scura leggermente shimmer molto cremoso con un profumino di burro cacao di una volta questo rossetto fenomenale ora lo lascio stare due minuti quindi tampono con una salvietta l'eccesso e poi lo ritampono leggermente ma in definitiva il look è questo vado a sistemare i capelli e vi vengo a dare un salutino ed eccomi qua quanto fa un capello sistemato che poi neanche tanto sistemato è perché con questo caldo reggerà pochissimo bene mi sono divertita ad usare con voi questa stupenda palette ho usato anche dei trucchi molto diversi dal mio solito partire dalla base il rossetto vi faccio vedere man mano ho visto che ho un cassetto pieno di roba facendo il video sul cassetto ho detto ma io faccio vedere ragazzi sempre le stesse cose invece così adesso nei video andrò a prendere e mixare insieme tutte le cose che ho che ne pensate come sto e allora lasciatemelo scritto qua sotto e ditemi casomai la prossima tonalità di colori con cui vorreste che io facessi un video con questa palettina perché un solo get ready with me con questa no non si può fare bisogna spaziare nei suoi bellissimi e tantissimi colori io ero molto molto attratta anche da tutta questa gamma qua di verdi mi chiamava molto poi come sempre buttato sui colori della terra bene ragazzi spero che questo look vi piaccia spero di aver passato insieme a voi uno spaccato di pomeriggio sereno noi ci rincontriamo sempre qui per il prossimo video e ci conto un grande bacio a tutti e buona estate ciao ciao